E veniamo a Otto Wagner. Gli architetti che abbiamo trattato finora sono stati i suoi allievi. Lui era già un grande architetto molto celebre a Vienna negli anni precedenti, la diffusione della nuova arte della secessione. E realizzava edifici del tutto tradizionali. Queste sono sue opere nella parte più centrale di Vienna. Opere di carattere eclettico o neoclassico. Qui siamo nella zona più centrale di Vienna, il Graben. E progetti edifici di questo tipo fino a più o meno 50 anni. Dopodiché ha una illuminazione. Entra in contatto, vede le opere della nuova architettura. Ed ecco una straordinaria trasformazione. Riceve l'incarico di progettare le stazioni della metropolitana di Vienna e realizza le opere del tutto opposte a quelle che aveva fino ad allora realizzato. Questa è la celebre stazione della metropolitana sulla Karlsplatz. Qui vediamo una struttura interamente in acciaio, molto leggera, con pannelli di marmo e decorazioni d'oro che ricordano quelle della casa della secessione. C'è un riferimento al mondo, anche qui, al mondo della natura, al mondo floreale, anche se molto stilizzato e molto più geometrico rispetto ai modelli francesi e del Belgio. Però troviamo questi elementi decorativi che possono rimandare anche alle opere di Hector Guimard in Francia, a Parigi. Questa è un'altra stazione che nasce come stazione privata per la corte austriaca, nei pressi di Schönbrunn. Altra opera celebre di Otto Wagner è la Maiolikaus, cosiddetta perché è interamente rivestita di maioliche. La struttura della casa è in acciaio, quindi abbiamo una struttura del tutto innovativa, ma rivestita con questi pannelli decorati, con temi di carattere appunto vegetale, floreale, a questa costruzione collaborò il suo allievo Holbricht. Qui vediamo alcuni dettagli di queste straordinarie decorazioni. Questa è la seconda villa che Otto Wagner realizzò per sé, è una struttura mista in cemento armato e acciaio, ancora una volta il modello della casa della secessione. Si tratta di una forma quindi che tende ancora una volta al geometrismo, all'astrazione. Abbiamo pochi elementi decorativi, soprattutto le vetrate, questi altri elementi disegnati da Kolon Moser. Altro edificio importante di Otto Wagner è la posta di Venna. Una caratteristica di questa facciata sono questi bulloni che fissano i pannelli esterni alla struttura sottostante e che diventano i se stessi elementi poi decorativi. L'interno è molto essenziale, funzionale, e qui possiamo dire che si tende verso quella che sarà poi l'architettura cosiddetta protorazionalista. Questa chiesa che vediamo sulla collina in lontananza è la chiesa di San Leopoldo a Stenhof, periferia di Vienna, che è la chiesa di un ospedale psichiatrico. Ecco, qui la possiamo vedere più in dettaglio, ancora una volta con presenza di uno stile estremamente scarno, essenziale, volumi elementari a cui si contrappone una decorazione più ricca ma che, ripetiamo, è del tutto nuova, non ha alcun riferimento col passato, anche se questa cupola dorata può far venire in mente dei modelli orientali. E qui vediamo le splendide vetrate disegnate da Kolomoser. E qui abbiamo l'interno della cupola. Ancora una volta parliamo di linearismo degli elementi decorativi che sono comunque ridotti all'essenziale. E infine arriviamo all'Oss, altro grande protagonista della secessione viennese, anche se però assumerà col tempo degli atteggiamenti di critica verso i suoi colleghi, differenziandosi alcuni punti principali della sua architettura. Innanzitutto critica della decorazione. Lui scrive un saggio, ornammento e delitto, in cui paragona la decorazione alla tendenza che hanno gli indigeni, gli uomini primitivi, di decorarsi il corpo con dei colori, eccetera. Secondo l'Oss, nel mondo moderno, i nuovi edifici, la nuova architettura, doveva fare del tutto a meno di ogni forma di decorazione, ma basarsi solo sulla essenzialità e sulla funzionalità e sulla qualità decorativa che hanno gli stessi materiali. Pensiamo ad esempio ai rivestimenti in marmo. Sono le stesse venature del marmo a costituire lamento decorativo. Non c'è alcun bisogno di sovrapporre cornici, modanature e cose varie. Ecco, proprio il rivestimento ha per lui un ruolo fondamentale nell'architettura. Fa un paragone con le prime costruzioni, le prime capanne degli uomini primitivi fatte con pochi sostegni di legno rivestite da pelli di animale. Ecco, era proprio questo rivestimento a contraddistingue, a dare qualità a queste sia pur primitive strutture architettoniche. e dunque il rivestimento ha un ruolo fondamentale nell'architettura. I materiali da adottare devono essere materiali naturali che vanno utilizzati nel rispetto delle loro proprietà naturali. Quindi, ad esempio, se utilizziamo il legno per rivestire degli ambienti e il legno non va dipinto, va lasciato nel suo colore naturale, con le sue venature, con le sue caratteristiche originarie, non va nascosto. Ogni materiale, sia per quanto riguarda gli aspetti cromatici che formali, va utilizzato secondo le sue caratteristiche e arriva a sostenere che l'architettura non si può considerare un'arte e quindi va assolutamente contro il programma delle Wiener Werkstatt che si proponevano di far convergere l'arte e l'industria. L'architettura per l'osso è qualcosa che va al di là dell'arte e introduce il concetto del Raumplan che vedremo più in dettaglio fra poco. La casa Steiner a Vienna insomma è una casa pensiamo agli edifici eclettici neoclassici che dominavano le città europee ci appare di un'estrema semplicità molto scarna l'unica decorazione è questo pannello laterale ma è di una povertà decorativa straordinaria. L'edificio ha una forma un po' strana dovuta ai regolamenti di elizi. Questa facciata che vediamo in questa foto e nella foto che abbiamo visto prima è la facciata posteriore la strada principale è qui sulla sinistra sulla facciata posteriore potevano essere realizzati anche tre livelli sulla facciata anteriore solo un livello per cui abbiamo questa scala di ingresso questo livello e abbiamo questa copertura curvilinea che nasconde il secondo e il terzo livello lo vediamo meglio in questa foto e qui vediamo i prospetti con questa strana forma che ripeto è dovuta all'intento di superare i regolamenti di elizi gli interni di questa casa contraddicono totalmente la estrema semplicità e povertà decorativa dell'esterno abbiamo pareti rivestite con materiali pregiati legni pregiati marmi pietre eccetera l'os progetta a venezia la villa moissi che non fu però realizzata siamo nel 1923 di forma cubica con una ricca articolazione interna e qui introduciamo il discorso che dicevamo prima del round plan vediamo che abbiamo ambienti situati su diversi livelli questo perché il concetto era un concetto se vogliamo anche di carattere etico gli ambienti dovevano avere un'altezza che era proporzionale alla loro ampiezza non aveva senso avere un salone molto ampio della stessa altezza per esempio un ambiente di servizio che era al suo fianco questo significava uno spreco di spazio e di soldi e qui abbiamo la casa Sceu a Vienna 1912 1913 anche qui una struttura estremamente semplice essenziale non c'è alcuna decorazione non c'è alcun riferimento al passato una semplice facciata intonnacata con delle bucature che sono queste finestre del tutto prive di elementi cornici e modanature ma ancora una volta alla grande semplicità dell'esterno si contrappone la ricchezza dell'interno ecco qui vediamo le sale interne rivestite interamente in legni pregiati e con elementi decorativi di elevata qualità come per esempio questi tappeti gli elementi di arredo eccetera ancora la villa Muller a Praga anche qui una straordinaria essenzialità dell'esterno si tratta di una forma cubica pareti semplicemente intonacate con queste bucature che sono le finestre ma l'interno contraddice ancora una volta la povertà decorativa dell'esterno abbiamo marmi pregiati rivestimenti in legno mobili di alta qualità artistica e così via e qui abbiamo la villa Muller sempre a Vienna anche in questo caso ha una forma sostanzialmente cubica di estrema semplicità ma gli interni sono molto più ricchi questo è il progetto per un concorso il concorso per la Chicago Tribune un grattacilo che avrebbe occupato appunto questo giornale di Chicago e lui realizza una colonna d'orica prende un po' in giro gli architetti americani del tempo che dopo la fase estremamente innovativa della scuola di Chicago erano tornati a un certo linguaggio classico tradizionalista e lui prende un po' in giro questi architetti progettando un grattacilo addirittura a forma di colonna d'orica e per finire abbiamo quest'altro celebre edificio di Loos la casa Solomichelplatz a Vienna questa è una foto d'epoca in bianco e nero ma ecco questa è un'immagine più recente e se noi guardiamo gli edifici che circondano la costruzione di Loos sono edifici ancora una volta di carattere eclettico tradizionale il progetto di Loos è innovativo una facciata estremamente essenziale le uniche concessioni alla decorazione sono queste fiorire ma queste fiorire non furono volute da Loos furono imposte dall'amministrazione comunale che altrimenti non avrebbe approvato il progetto abbiamo un basamento un alto basamento rivestito in marmi e poi tutta la parte superiore dell'edificio è semplicemente intonacata con le solite bucature che sono le finestre non ci sono cornici non ci sono decorazioni se non questa moda natura del cornicione finale e questi sono i tipici Buo Windows che realizza Loos inquadrati e questa è forse l'unica concessione se vogliamo allo storicismo da queste due colonne bene possiamo fermarci qui e dunque buon lavoro a a Grazie a tutti.